Manca poco più di una settimana alle elezioni regionali del 10 febbraio e si intensificano le visite dei big della politica nella nostra regione. Il candidato presidente del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, sarà sostenuta da Di Maio e Di Battista che trascorreranno il fine settimana in Abruzzo. Domani a Chiedi arriveranno Luigi Di Maio e Di Battista. Sì, per un lungo fine settimana ricco di incontri. Domani iniziamo con questo appuntamento, insomma è un po' un gran ritorno, un gran rientro di Di Battista in campo e ci vediamo al Super Cinema alle 17. I due esponenti del Movimento Pentastellato a seguire saranno alle ore 20 a Teramo, mentre domenica saranno alle ore 11 al Teatro Francesco Paolo Tosti di Ortona e alle ore 16 all'Auditorium Ance dell'Aquila. Quali le richieste che giungono più impellenti? Sono le stesse richieste che ci sono arrivate negli ultimi 5 anni in Consiglio regionale, cioè più lavoro, aiuti alle imprese, accesso al credito per le imprese, incentivi alle assunzioni, una sanità che funzioni, delle liste d'attesa che non ti facciano attendere un anno e mezzo per fare un esame o un'analisi, la condizione delle strade della nostra regione, insomma tutte le solite necessità, le stesse necessità che gli abruzzesi sentivano 5 anni fa e che non sono state soddisfatte, un ambiente pulito, un mare pulito, dei fiumi puliti, insomma sono le stesse cose, gli stessi argomenti perché poco si è fatto in questi anni. Noi nel nostro programma abbiamo trovato le soluzioni per risolvere questi problemi.